a per un po' un po' il mio oggi per un po' per un po' mannaggia per un po' quanta cazzo ci stia a me? 1000 euro 50 mila volte che stia a me una seconda un po' un po' un po' un po' un po' mannaggia la marasca che stia a me che ne è